Giorno 367 della crisi idrica a Roma Non è il momento del panico e dell'intoleranza Servono prudenza, civiltà e umiltà Disinneschiamo le polemiche Io ho il colletto, l'ho pagata tutti! Non viene utilizzata nemmeno una goccia della rete pubblica Servono persone come lei per trasmettere fiducia La gente è pazzia Bravo, bravo! Dai, su! Amore di papà, c'hai sedici anni Devi ridere, innamorarti Mi piace uno Eh, non subito Eh, invece subito Quando è che abbiamo smesso di essere felici io e te? Non sono mai stata felice Prontissima Allora? Che futuro ci aspetta?